Questo trasporto 2013, come sapete il trasporto è dedicato a tutte le persone che in questo momento si trovano in difficoltà, licenziamenti sempre più frequenti, aziende in difficoltà, pensionati che non arrivano a fine mese. Quindi questo trasporto va dedicato a queste persone, un ricordo per loro, aiutiamoli a passare questo momento difficile, questo momento difficile come un nostro sacrificio che questa sera faremo con la girata a Piazza del Teatro. Facchini Santa Rosa! Evviva Santa Rosa! Stanchezze posteriori! Sotto! Aggiuntive destre! Sotto! Aggiuntive sinistre! Sotto! Fissa destre! Sotto! Fissa sinistre! Sotto! Ciuffolotti! Da fastidio, mi appoggia un attimo. Ricorda un attimo! Ciuffi di Santa Rosa! A capezzano ciuffo! Sotto! Settima fila ciuffi! Sotto! 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 Quinta fila ciuffi! Sotto! Quarta fila ciuffi! Sotto! Terza fila ciuffi! Sotto! Seconda fila ciuffi! Sotto! 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 Prima fila ciuffi! Sotto! Stanghezza anteriori! Sotto! 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 Poglievo Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. a tutti.